Sono sudato, ho fatto ben due rampe di scala. Ci vuole il carrello? Sì, il carlino dei vecchiettini. Quello con le tre ruote, sì, vabbè, vecchiettini lo siano già adesso. Ma fa caldo? Si vede? Ecco, vedi? Tanto caldo, caldo, caldo. E adesso? Aspettavo questo momento. E adesso? Aspettavo questo momento. E adesso noi cosa facciamo? Suoniamo al posto dell'affettatrice. Siamo pronti. Cioè, io sono pronto. Io un po' meno. Ecco. Ma tu chi sei? Funziona la spada? Mi serve la toglia? Funziona. Su, tu senti. Ma evitica una spada. Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Un po' più a destra, no, no, non cambiare la pallina, non cambiare la pallina. Chi si è uscita prima? C'ho paura! Alcuno si è buttato. Ho fatto atmosfera! In this line of sweet, he'll never get enough. Emotions come you do your wine, come or have your high five. Come bello, parlamore, non riesce. E' un giù, a gao, oh, let me stop. E no, cacao della miglia! Happy birthday to you! Quanti a chi sono? All of you, love your person, love your edges, all your perfect imperfections...